Guardate qua ragazzi, guardate qua vi faccio vedere una cosa, guardate, guardate qua eh. Allora, venite a vedere, vi faccio una cosa che non avete mai visto voi altri, in vita vostra eh. Allora, con calma, c'è una cosa questa qua che non si ripete spesso eh. Allora, guardate qua, vi faccio vedere, questi sono uno a testa in giù, e uno a testa in su, allora, da vedere eh, riprendi qui Gabri, riprendi qua, riprendi tutti e due qua che poi riprendiamo quell'altro. Allora, è arrivata, avete visto? Ma dai, adesso state a vedere questo eh, state a vedere questo adesso. Per farvi vedere, allora, osservate bene eh, chiamati, per raccogliere i tartuffi. Quello è proprio sottoterra. Guardate, avete visto? Uno in su, e uno in giù. Ecco qua. Ok.